buongiorno benvenuti questa rassegna stampa di oggi sabato 2 dicembre allora cosa sono i temi fondamentali dei giornali ce ne sono vari diversi oggi sono un'idea unica a parte gli attacchi non gli attacchi il godere del possibile casino che potrà succedere a trump di cui non parliamo perché ci interessa zero sul russia gate ci interessano cose molto più crete che riguardano casa nostra intanto l'ilva la storia dell'ilva oggi la ricorda a tappe mi a qualche giornale è la storia di un esproprio non proletario l'esproprio che ha fatto lo stato nei confronti di una famiglia di privati oggi goffredo buccini su quelle della sera dice una fake news e cioè grande acciaieria mal gestita per decenni allora qualcuno e magistrati di taranto possono dire un magistrato che poi dopo aver fatto il magistrato si è candidato per il fondazione comunista per darvi il senso della loro ideologia alcuni magistrati possono dire che la famiglia riva non abbia fatto i piani ambientali come loro richiedevano ma in realtà mal gestita non la possono dire l'ilva è stata gestita benissimo dal punto di vista economico patrimoniale e di posizionamento del mercato fino a quando veniva gestita dai riva oggi è fallita e sostanzialmente fallita grazie alla gestione commissariale del governo come spesso viene gestione commissariale fanno fallire le aziende private ed è stata venduta a quattro soldi a una cordata la quale cordata si è impegnata a fare come possiamo dire le attività ambientali che peraltro impegni che aveva preso anche se più lenti la stessa famiglia riva ma cosa succede in questo caso che c'è un ricorso al tar da parte della regione puglia cioè di emiliano e il ricorso al tar è fatto e appoggiato dall'attuale sindaco di taranto perché il concetto è quello che tutti i giornali parla che questa acciaieria uccide non c'è nessuna prova non c'è nessuna sentenza non c'è nessun giudice che abbia dato la sentenza definitiva sulla possibile morte provocata dall'ilva l'inquinamento lo fa come qualsiasi attività umana inquina soprattutto un'acciaieria ma questo è un discorso che non ci riguarda oggi perché basta leggere oggi i sindacati non della cgl ma ho letto 8 20 vogli oggi della cisla che si occupa dell'ilva che in un'intervista mi sembra molto più responsabile di emiliano e dei politici che per motivi elettorali continuano a cavalcare la parte della città e le paure che questa grande acciaieria possa uccidere chiudiamola questo è il concetto dopo questo rincorso verrebbe ovviamente chiusa e poi dopo non ci preoccupiamo delle 15 mila famiglie che perdono lavoro è anche una scelta perché se una cosa veramente si intiene che uccida chi se ne frega di 17 mila persone che lavorano lì ventivogli e ricorda inoltre come il sindaco il presidente emiliano grandissimo presidente emiliano della regione che mai sta anche simpatico abbia fatto ricorsi contro il tap un tubo che va a finire nel salento e che porta dall'azerbaijan del gas in italia fondamentale per le nostre diversificazioni energetiche quindi invece di inquinare con le navi è una specie di gasdotto che arriva noi anche su quello stiamo rompendo i coglioni e anche su quello emiliano ha fatto un ricorso sulla buona scuola ha fatto un ricorso sui vaccini ha fatto ricorso tutti e tre ricorsi persi quarto ricorso sull'ilba tanto per chiudere la acciaieria che e quindi 15 mila persone perché non è che poi le persone lavorano sugli alberi il posto che non vogliono più lavorare sugli alberi e oggi a questo proposito il foglio di cerasa proprio ricordando non solo emiliano ma le follie in realtà ricorta poco emiliano però questo è il paese del no tap no tab no acciaieria noi il va poi dovremmo vedere no gran sasso e richiede una cosa condivisibilissima dice oggi e claudio cerasa sul foglio è necessaria una nuova marcia dei 40.000 ton contro tutti coloro che dicono no in realtà si tratta del momento 5 stelle ma non solo del momento 5 stelle emiliano non è il momento 5 stelle cioè in questo paese non si può fare nulla nulla ogni posto non si possono fare gli inceneritori ma vogliamo consumare non si possono fare le centrali ma vogliamo avere l'aria condizionata non si può fare il gasdotto che arriva dall'azzebagian perché ci sono i mafiosi perché vengono espiantati 50 100 ulivi che poi vengono ripiantati ma allora vogliamo e ma non possiamo neanche bruciare il petrolio perché il petrolio fa male non vogliamo chiudere l'ilva però vogliamo che ci siano 15.000 persone che 15.000 famiglie che lavorino non vogliamo chiudere l'ilva ma vogliamo continuare ad essere un paese industriale non vogliamo il turismo vogliamo il turismo ma poi non vogliamo costruire non vogliamo fare un albergo perché se si fa un albergo succede un casino in questo paese per le distruzioni ambientali non possiamo neanche aprire una finestra in questo paese non vogliamo il turismo però non possiamo fare Airbnb perché Airbnb lo dobbiamo tassare questo è il paese di no su tutto dei ricorsi a tar su tutto è un paese in cui non si può fare nulla oggi ti legge il giornale dici ha ragione c'è rasa questo paese che dovrebbe smetterla di avere politici e fateci sbagliare tanto abbiamo fateci sbagliare c'è stata l'ilva per 60 anni oggi ci siamo accorti che l'ilva non va bene un'altra cosa pazzesca è questa commissione banche e presieduta da casini e vi dico la verità non serviva a nulla finirà prima della campagna elettorale non ha alcun potere sanzionatorio è stato già eletto il già stato nominato nei prossimi sei anni contro il paliere di renzi e non solo il governatore della banca d'italia lo stesso che ha gestito gli ultimi sei anni noi abbiamo una commissione che serve soltanto o a difendere renzi come nel caso del procuratore rossi l'altro giorno o ad attaccarlo come nei prossimi giorni perdita di tempo perdita di soldi con l'idea che casini finalmente avrà un po di visibilità straordinario il presidente dell'eurogruppo questo diesel bomb quello che disse che gli italiani paesi del sud si occupavano soltanto a bere pensa da chi l'è detto da un olandese e alle donne fatto fuori dal suo governo quindi non ha più la possibilità di fare il presidente dell'eurogruppo sapete che fa diventa consulente del fondo salva stati 14 mila oggi sul corriere della sera leggo 14 mila euro di stipendio al mese a me frega niente se non prende lo stipendio ma l'idea del riciclo del politico in un fondo burocratico europeo salva stati sempre da il senso di come non è che le cose se stanno lontani politici sono lontani sono meno mafiosetti di come sembrano i nostri politici allora parliamo dei consulenti siciliani o deforestali calabresi non ci rendiamo conto che anche il presidente dell'eurogruppo poi tiene famiglia e si trova vada lei ad abitare vicino all'ilva della gente che muore non frega nessuno paolo bulgarelli se continuate così ma che cazzo di ragionamento mi fa ma come si permette ma che cosa dice ma cosa dice della gente che muore qual è la gente che muore la gente muore anche qua in in pianura padana perché ci sono le fabbriche muore anche muore anche in emilia romagna perché ci sono le fabbriche ma che cosa sta dicendo è un argomento questo è un argomento vabbè ma comunque lasciamo di perdere non facciamo nulla non non andiamo ad abitare vicino al tap per esempio perché anche lì si muore non andiamo avvicinare la nov tav perché anche lassi si muore vabbè straordinario poi oggi sui giornali c'è la frase di di lapo che dice che quando renzi vuole più che assomigliare a macron assomiglia micron o a micron non so che qual è che voglio dire e io trovo soltanto una considerazione da fare pif che dice io non vado la leopolda e ne ha fatto almeno 45 e che renzi i suoi cercavano di piazzare al rai 3 lapo il grande uomo intellettuale che adesso diventa un critico di di renzi mi immagino quando lui aveva un renzi un po di peso se avrebbe se avesse fatto una battuta di questo tipo il volo che si alza oggi daniele argnieri sul fatto lo ricorda che si alza dal tavolo dove si era presentato renzi a davanti a centinaia di persone per la presentazione del libro del volo di volo appunto e tutti i tre ma dove erano quando renzi per mille giorni ha fatto il presidente del consiglio dove erano quando renzi faceva quello che voleva cacciava le persone da rai diceva chi comandava chi non mandava volo pif e lapo dove erano quando renzi decideva che pif doveva fare l'uomo immagine dire tre o che comunque era l'uomo che rappresentava l'italia nella sicilia dove erano questi dove erano tutte queste grandi gesti queste critiche eclatanti nei confronti di renzi perché non l'hanno fatto quando renzi aveva due palle così era presidente il consiglio e contava perché avevano paura perché avevano paura perché pensavano che anche loro come il presidente dell'euro gruppo comunque dovevano campare chiaro dovevano campare anche loro tutti devono campiare stupendo oggi repubblica che fa un'inchiesta di prima pagina e l'attacco di prima pagina sapete qual è il grande problema oggi in italia l'ilba volo la commissione delle banche renzi berlusconi quello che volete voi no la grande inchiesta di repubblica di prima pagina è londaniera che vuole prendersi milano cioè secondo loro c'è un attacco fascista o di gruppi nazi fascisti a milano questi repubblica io non so dove vivano dove vivano dove vivano cioè il tema oggi è che i fascisti vogliono prendersi milano è bellissima l'intervista a rot fatta mi sembra oggi su repubblica l'intervista rot vale la pena di leggerla peccato il titolo il romanzo non è morto uno legge questo romanzo pensa che sia un titolo fatto appunto da volo vi segnalo altre due tre cosette beh insomma l'altra questione proprio culturale fatta da nordio sul messaggero è la storia di irma la bella e sadica capo che durante il nazismo nei campi di concentramento ha ucciso più in mea brutale più persone lei che i menghele insomma è un altro aspetto storico molto divertente l'ultima cosa che vi segnalo oddio su consip un cretino che mi chiede su consip nulla sì perché io non voglio parlare di consip perché lo scrive il fatto perché una cosa pro grillini un cretino dice di consip nulla ecco il ditino così di consip nulla quando ci sarà qualcosa su consip ne parleremo come ne ho parlato per mesi di consip deficiente di un di un a me quando arrivano questi qua mi dicono di consip nulla come se ci fosse capito un complotto per non parlare di questa cagata di consip va bene ne ho parlato 100 volte di consip basta che ti va a vedere le mie zuppe nei mesi scorsi oggi per quel titolo del fatto unico giornale che tu riesci a leggere non ne parlo va bene invece sai che mi viene di parlare mi viene da parlare di quei deficienti del movimento 5 stelle deficienti delle movimento 5 stelle i aizzati da un arti da un da un servizio incredibilmente superficiale delle iene cosa che non è neanche diciamo come posso dirvi una particolarità sulla questione che sotto al gran sasso ci sarebbero degli esperimenti segreti nucleari va bene questo è andato a fine sulle iene è stato ripreso dai consiglieri del momento 5 stelle dell'abruzzo e vogliono far chiudere il centro del gran sasso oggi un fisico straordinario scrive sul sul giornale e racconta che cos'è questo esperimento socso e dell'inutile e di questa specie di allarmismo ridicolo delle iene sul quale soltanto quei cazzoni del movimento 5 stelle dell'abruzzo ci sono caduti insomma metti insieme iene e movimento 5 stelle e ottieni un'italia medioevale leggetevi il fisico che oggi scrive sul giornale e leggetevi anche soprattutto la sua fine dice poi dite perché i nostri cervelli se ne scappano ciao